Baia Flaminia sempre più accessibile anche nelle sue aree meno attrezzate. Va in questo senso il progetto di abbattimento di barriere architettoniche nei collegamenti fra le aree verdi del campo di Marte e la fine della pista ciclabile fino alla spiaggia libera che affaccia dal Lido Pavarotti. Si tratta di un progetto pronto ad essere cantierizzato che si inserisce all'interno del bando ministeriale Marche for All in cui Pesaro, da fine 2022, ha ottenuto 300.000 euro di contributi statali e regionali. Sarà infatti un cantiere da 150.000 euro quello che porterà a creare sentieri percorribili che dalla strada si congiungeranno con la spiaggia libera alle pendici del San Bartolo, rendendo ulteriormente inclusivo uno degli angoli più suggestivi del litorale e al contempo mettendo a terra un altro degli obiettivi del piano di eliminazione delle barriere architettoniche istituito a Pesaro. Un lavoro a più mani fra Comune, Enteparco San Bartolo, Lega Navale e Centro Servizi Volontariato che coniugherà la realizzazione di sentire accessibili una nuova segnaletica, nuove piantumazioni e creazioni di aree ombreggiate.